Un promontorio di alta pressione continua a proteggere la nostra penisola dal transito di sistemi frontali e favorisce quindi il mantenimento di condizioni di stabilità atmosferica. La depressione attualmente sulla Spagna si sposterà sulle Baleari, interessando più attivamente anche le nostre regioni con un peggioramento diffuso in particolare nella giornata di martedì. In Toscana lunedì 22 aprile molto nuvoloso con possibili isolate deboli piogge più probabili sulle zone settentrionali, nel corso della mattina schiarite più ampie sulla costa centro-meridionale. Dal pomeriggio e soprattutto in serata nuovo peggioramento, venti deboli o moderati nell'interno, moderati o forti di scirocco lungo la costa, mari mossi settori settentrionali molto mossi e localmente agitati, quelli meridionali, temperature pressoché stazionarie. Sul territorio provinciale da poco nuvoloso ha coperto in serata con deboli piogge, a Lucche sulla Piana temperatura minima 11 massima 24 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 6 massima 23, a Viareggio sul litorale minima 11 massima 20 gradi. Martedì deciso peggioramento con piogge anche intense soprattutto nel pomeriggio, temperature minime in aumento, massime in calo.